buonasera benvenuti per l'episodio numero 57 oggi pet siamo in due col big party al capo su giro da warbappati pronti per andare a fare in questa è la prima lavorativa al multi capo il capo bravo big bravo dai tu 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 lì tu 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 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 3 2 3 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 10 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 5 5 6 6 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 12 12 12 10 9 10 12 8 10 10 30 10 11 10 11 11 11 13 14 15 bravo Dio dai tu su buono bravo Dio ormai buono pravdje dai 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 porra su buono dai dai ai dai buono li 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 buono bravo sto per morire bravo Dio bravo ragazzi poco peso ma le facciamo per bene un po' un po' ci vuole anche questo bravo Dio dai buono buono bravo bravo li tu li un bravo Dio bravo bravo Dio bravo bravo passiamo a una piana che tra l'altro non facevano da sette anni e mezzo ma cambiamo quindi tanto è giusto variare quindi niente qui finiamo con un po' di croce e cavi poi buono siamo già demoliti bravo abbiamo messo tra l'altro un 5 sotto perché sennò non ci stiamo Dio troppo li lì buono c'è il c***o il pittrappiede che gira un po' come c***o non ho capito perché ma va bene ecco vedi tipo adesso gira a random stare buono bello bravo Dio sto pesante bravo questo c***o 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 dai big su buono c***o c***o le pippere con su bene arrivi alla sesta e non sali agamo più quindi posto bravo Diego dai dai Diego buono posto quindi c***o c***o poi posto Voi, vieni 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 Dottore, ma penso non è così È raggiù, ma che c***o è Scodini Una volta buona che ti riepia Dai, non vedo lui, va, dai Dai lì su buono alza l'estero fai sopra fai sopra quei porco di maniglie fai sopra la testa bravo me l'ha segnato me l'ha segnato il boss chi? Gian Enricos come se fosse di levante no ho capito oltretutto come se cambiassi la tua esistenza che frega di quanto è peso comunque più grosso c***o che fanno queste domande buono per oggi è quanto dal vostro anzi dai vostri big è tutto ci vediamo domani con il prossimo episodio potc***o ciao ragazzi Grazie a tutti.